Anche per questo 2022 il barometro delle cipolle ha parlato grazie all'antica tradizione che ogni anno la signora Emanuela Forlini di Urbagna segue attraverso l'esposizione degli spicchi di cipolla nella notte di San Paolo, ovvero tra il 24 e il 25 gennaio. In estrema sintesi ci aspetta un inverno ricco di precipitazioni anche nevose fino a marzo con temperature rigide. La primavera arriverà in ritardo e il bel tempo lo avremo dal mese di maggio, mentre l'estate partirà con belle giornate da giugno. Autunno sarà caratterizzato da pioggia per poi attenuarsi e con temperature rigide. Ma veniamo alle previsioni mese per mese. Il cambiamento arriverà nei giorni del 29, 30 e 31 gennaio, ovvero i giorni della merla con temperature molto fredde. Febbraio sarà contraddistinto da precipitazioni sia piovose che nevose. Marzo instabile con temperature invernali, pioggia e qualche nevicata. Nel mese di aprile sarà la pioggia a padroneggiare, a differenza di maggio. Giugno variabile con giornate a tratto soleggiate e altre piovose. Luglio sarà caldo come anche ad agosto caratterizzato da belle giornate di sole tipico dell'estate. Il bel tempo prosegue anche nel mese di settembre, mentre ad ottobre arriveranno le prime piogge con tempo variabile. Novembre nebbioso con assenza di precipitazioni e un dicembre rigido con gelo freddo ma senza neve.